Siamo qui con Valerio, DJ dello Street Food Factory. Volevamo chiederti, qual è la musica perfetta per un brunch fotografico come questo? La musica perfetta non esiste, la musica è sempre una questione di percezione, almeno questo penso io. Il lavoro che ho fatto io più o meno stamattina è stato ispirarmi, farmi un po' suggestionare dalle vecchie musiche dei brunch americani. Alla fine un brunch, lo sappiamo tutti, la contrazione fa breakfast e lunch ed era quello che un po' serviva ad accogliere i nottambuli in tempi non sospetti. Quindi era una musica squisitamente americana, prima di tutto, almeno per quanto mi riguarda. E anche un po' di Brasile perché è una cultura che è molto legata al cibo. E un po' vintage, un taglio jazz, un taglio come quello più o meno che non so se si sente in sottofondo, però da Barrow House. Hai cercato anche di calibrarti riguardo il tema della colazione? Beh sì, abbastanza. Diciamo che a colazione c'è una musica, diciamo, motivante, una roba fresca che ti faccia iniziare la giornata con positività, con allegria, con convivialità. Più o meno queste sono state le prerogative delle mie scelte musicali. Pagli Certainly Pagli Grazie a tutti.